Però comunque, per tornare un attimo al discorso, preferisco Mili da vedere e PM da giocare Sì, anche io, anche io Perché intanto sono partiti, ho aggiornato i nomi, vero? Sì, sì, mi sembra di sì Mi sembra Sì, sì, sì Sono pure giù Sono pure Troppo bravo sto diablo Ok, sì, ha piccato Mario, come si prevedeva No, perché ha sospeso il socio lo zio, Mubo? Perché? F per il socio lo zio Cos'è successo? Ok, vediamo che cerca di spessare con le palle di fuoco Mario Che però entra e guarda quanto danno, ragazzi Oh, apeir, apeir, sono due Ragazzi, ottimo Vediamo che comunque Voix ha idea del suo personaggio e sa come si gioca Oh, ok Immagino fosse un miscli Voix ha quasi idea del suo personaggio Pick a fire Cerca di Cerca di prendere un po' lo stage Però deve Fare retreating, Lucas Perché una deve Cerca di impararlo con la P Ah, misce con un fail un po' frizzante Un po' frizzantino Un po' esotico, possiamo dire Oh, downtrow into back Ok, rare backer, un air che copre Ok, ora vediamo se Si sta muovendo bene Si sta muovendo bene Si sta muovendo molto bene Voix Assurta bene Sembra che abbia capito qualcosa del matchup Sembra che veramente che abbia capito come si gioca questo matchup con Mario Beh, ok, prende sempre stage control e fa sempre danno E ora Hazel dovrebbe tornare in tutta tranquillità Lui cerca la Tomahawk Ottimo set Oh, backer Ok Wow Stavo per dire Forse no Però Vediamo che Hazel ha idee sul suo personaggio Capisce che Oddio Quanto danno Ma dai Ma che Cioè, tu dimmi Tu dimmi Tu dimmi Che questo non è un pg autistico Stai sull'edge Cioè Non è il Nikita Ma è paragonabile al Nikita Quella roba Si Ha il fatto che sia Un Uno dei tool Per gimpare Più forti del gioco Tanto Non manda da nessuna parte Ok Oh Il salto deve Non lo so Peccato Un po' leggibile Questo smash Su l'edge Lo stanno Li sta leggendo Hazel Li sta guardando E perciò sa cosa fare Notare che comunque Hazel Nonostante la situazione Possesse Prima even O di vantaggio Per voi Ora sta Sta campando Sta campando Da un air Da un air Da un air Ottimo Perché avrebbe potuto Coprire una possibile Air dodge Si si Ha fatto bene Fave Buonissimo Ottimo tool E tra l'altro Safe on shield Quindi lo può Spessare abbastanza bene Ok Oh Cerca la rubata Ma Diciamo che Comunque a 0% Ftilt Fkfire Che ha tentato Di metterlo In tech chase Non riesce a fare String di Up air E interrompe Cioè Mario Eh si Perché Luca Perché comunque È un pg difficile Mamma mia Io l'ho vista Bruttissimo Anch'io C'era un Becker Là Che Mamma mia Hazel Famosissimo Per il fatto Che cerca Ogni in ogni Modo Di rubare Qualsiasi cosa Anche se non Ne ha bisogno Lui deve Rubare Lui deve Clippare Oh Letta air dodge Air through Cerca il down No Becker Che non colpisce Due frame Anche perché Torna con la FB On stage Mario In questa K Non sta utilizzando La K Per niente Mario Non Dovrebbe giocarla Più tranquillo Senza correre Sempre dietro A Lucas Perché Il punto Di Lucas È che Bisogna Non approcciarlo Perché se lo Approcci Ha tantissimi Tool Per bloccarti In aria Probabilmente Può essere Magari Diciamo Una causa Di questo Voler approcciare Il fatto Che giocando Roi Sì Magari Ti rimane Un po L'imprinting Sì Però anche Con Roi Questo qua È proprio Un matchup Che dovresti Giocare Sempre Sì Ma infatti Non è relativo Al matchup È proprio Relativo Magari Allo Stile Di gioco Di Vols Sì È un po Aggressivo Ok Mamma mia F tilt Che kill Killa Killa Dopo il buff Con l'f tilt È diventato Veramente Veramente Forte Ok Aggiorni Vinteggi Sono abitato A cercare La bombetta Dunque Asriel Game Dominante Dopo un inizio Even Sembra che Asriel Abbia scaricato Un po' Voix Ma Può anche darsi Solo che si sia Adattato Al sostegno Di gioco Dopo un inizio Si Even Ha capito Come giocare Come giocare Non solo Un matchup Contro Mario Ma come Contro Voix Secondo me Ha proprio capito Come giocare Contro Voix È una È Veramente Un Asriel è Veramente Bravo A scaricare E ad adattarsi Agli avversari È uno dei suoi Pregi migliori Come player Soprattutto Una cosa che sa fare È sfruttare Diciamo I vantaggi Che ha Il suo PG Contro Cioè In un determinato Matchup Decisamente Sì Concordo Con Tempieno Ho cercato Di leggere Una roll E Continua A cercare Sto Zeir Penso Che quella Flash L'avrebbe potuto Grabbare Non vorrei Dire Magari Non in modo Troppo Però Sarebbe rimasto Quello scudo Probabilmente Voix Neir Cerca la stringa Col Feir Non colpisce Cerca di Punire il regrab Però Voix C'era arrivato Che non si doveva Grabbare Brutta situazione Bruttissima situazione Ottimo Si fa colpire Per tornare poi Su grazie al knockback Sì È stato anche fortunato Che il PK Thunder Di Lucas Non l'abbia mandato Nella direzione opposta Sì Perché è un po' un meme Quel PK Thunder Non sai mai dove ti possa Spendere Poi dici Riesci ancora a dire Che non sia autistico Dai Ok Forse un po' Che tu ti sei Ecco 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 A fine set Arriverò a dire Che è completamente autistico Cerca un dash attack Perché succede sempre Quindi Don't throw Appare Appare Solo uno Forse dovrebbe migliorare Un po' queste stringhe Perché si vede Che non conosce Il matchup Con Lucas Oh non kill Sta nel city ceiling Altissimo Sì Il più alto Sì A differenza di Smash 4 Dove era il più basso Il più basso Hanno un po' Resettato la cosa E Eric Che killa Decisamente Ok Situazione ancora Non irrecuperabile Per il giocatore Per il giocatore Di Mario No anzi Però Sta Lo sta Leggendo Sta proprio Ceisando Benissimo Una pressione Allucinante Una pressione È veramente Un giocatore Che Sa Il fatto suo Sa giocare bene Quasi tutte le partite Non va Voix mai A contestare Il Ticker Rocket E soprattutto perché Con il Side B Con la K Anche se non colpisce La pallina Ma Lucas Lo rimanda indietro Lo rimanda indietro E questo è una cosa Che non Non ha davvero Fatto mai Anche quando Lui era lontano Tipo in questo Oddio Che cervello gigante Io voglio morire Cioè Ho detto Oh no È ritardato Poi ho visto La piattaforma Che si stava spostando Ho detto Oh no No Non l'ha preso Veramente Oh no Oh no Vediamo Che è un giocatore Che ha un game sense Assurdo Magari sbaglierà Le piccole cose Più tecniche Però quando Si tratta Di game sense Manca Si Manca anche Magari Un po' Di consistenza Però quando Cioè Oh eccolo Oddio Mesca bene Però è morto Mesca bene Però è morto Mamma mia Astral Oh Cerca Cerca il meme Cerca il menino E non lo trova Non ancora Ancora troppo press Apeira Apeira B La chiude così Comunque Mette Una buona percentuale Sì Fair Per spessare Cerca un attimo Di muoversi Lucas Sta cercando L'accisata Allucinante Sì ma È così Aswell Lui deve cercare Oh Sotto Sotto Oh a Gian Ok Ha cercato L'accisata Di nuovo Questo giocatore Cerca il cheese Cerca il formaggio Dai È anche onesto Sei in vantaggio Di due Un po' tossico Direi Un po' tossico Cercare Questo clip Un po' tossico Anche perché così Sei in vantaggio Potrebbe chiuderla Tranquillamente Esatto Anche perché così Noi è possibile Che facciamo tardi Di nuovo Se continui a fare così Giocase No vabbè Siamo abbastanza tranquilli Vedere in una maniera epica Però Che non sia Troppo epica E finisca In un 1 a 1 Esatto Perché diciamo che Sarebbe abbastanza Fantastico Stora Se riuscite a rimontare Sarebbe giusto Sarebbe giusto Oh E fa Il misto Pair E buttamelo E buttamelo A Pair A Pair No lo manca È morto No Buona dia Quel PK Fire Mamma È passato proprio in mezzo È morto È morto Ragazzi GG Azri Tossico Tossico Come al solito Ragazzi Però Riesce Ad avere quel vantaggio Assurdo Sbagliato Tossico Tossico davvero Tossicissimo